Tiberio, l'ombra di Augusto. Tiberio Giulio Cesare Augusto, secondo imperatore romano, è una figura complessa e controversa, spesso oscurata dalla grandezza del suo predecessore, Augusto. Nato nel 42 anno corrente da una nobile famiglia, Tiberio era figlio di Tiberio Claudio Nerone e Livia Drusilla, che sarebbe poi diventata la terza moglie di Augusto. Un'infanzia aristocratica e una carriera militare. Tiberio ricevette un'educazione raffinata, che comprendeva la letteratura greca e latina, la filosofia e la retorica. Visse un'infanzia privilegiata, circondato da intellettuali e artisti. Iniziò la sua carriera militare a soli 16 anni, distinguendosi per il suo valore e le sue capacità strategiche. Condusse campagne vittoriose in Germania, Pannonia e Rezia, ottenendo il favore di Augusto che lo adottò nel 4 dc, designandolo come suo erede. L'ascesa al trono e il principato. Alla morte di Augusto nel 14 dc, Tiberio, all'età di 54 anni, salì al trono senza opposizioni. Il suo principato fu caratterizzato da stabilità e prosperità. Tiberio si dimostrò un abile amministratore, restaurando le finanze imperiali e rafforzando l'esercito. Promosse la cultura e le arti, favorendo letterati come Virgilio e Ovidio. Un carattere ombroso e le accuse di tirannia punto tuttavia, Tiberio era un uomo cupo e riservato, incline alla solitudine. Con il passare del tempo, il suo carattere divenne sempre più sospettoso e crudele. Si ritirò a Capri nel 26 dc, lasciando la gestione dell'impero al prefetto del pretorio Seiano. Questo periodo fu segnato da delazioni, processi politici e condanne a morte, che alimentarono l'accusa di tirannia da parte dei suoi nemici. La morte e la successione. Tiberio morì nel 37 dc, all'età di 78 anni. La sua morte è avvolta nel mistero, con alcuni storici che ipotizzano un avvelenamento da parte del nipote Caligola, che gli succedette al trono. Eredità e storiografia. Punto la figura di Tiberio è stata oggetto di interpretazioni contrastanti. La storiografia antica, influenzata da autori come Tacito e Svetonio, lo dipinse come un tiranno crudele e paranoico. Tuttavia, studi recenti hanno rivalutato il suo operato, sottolineando i suoi successi militari, amministrativi e culturali. Tiberio rimane un personaggio enigmatico, un uomo di grande intelligenza e capacità, ma tormentato da una profonda inquietudine.